Senjim è una società di ingegneria multidisciplinare, leader nella progettazione piantistica. Nasce più di 20 anni fa e ad oggi conta 14 sedi su tutto il territorio italiano, una delle più importanti proprio nella città di Milano. Ci occupiamo di progettare impianti in più ambiti, dal mondo dell'efficientamento energetico, le energie rinnovabili, il mondo degli edifici e tutto il mondo industriale, quindi oil and gas, chimico farmaceutico, petrol chimico e power. In Senjim è molto importante il valore delle persone, garantiamo quindi percorsi di formazione, abbiamo anche un'accademia interna, percorsi di crescita, percorsi di carriera, per far sì che ognuno di noi possa portare il proprio contributo in un ambiente positivo, dinamico e in crescita. Dal inizio del 2021 ad oggi abbiamo inserito più di 70 risorse in ambito tecnico e molte altre andremo ad inserirle nei prossimi mesi. Se sei un ingegnere neolaureato o laureando in ingegneria energetica, ingegneria elettrica, meccanica termotecnica, chimica di processo, civile strutturale o ingegneria dell'automazione, vieni a trovarci al Career Day!